Nel 2019 spetta alla Toscana, in occasione della festa di San Francesco, offrire l'olio per la lampada votiva che da 80 anni arde sulla tomba del Santo ad Assisi. Il pellegrenaggio regionale è in programma il 3 e il 4 ottobre e vede già mobilitate tutte le diocesi toscane. Una tradizione che da quando San Francesco è patrono d'Italia vede ogni regione, con i propri comuni, partecipare a turno all'offerta dell'olio. Ad accendere la lampada sarà Dario Nardella in qualità di sindaco del comune capoluogo e alla cerimonia interverrà anche il presidente della regione toscana, Enrico Rossi. È un'occasione bella che ci fa incontrare attorno a un uomo povero, libero, santo e fratello di tutti. È un'opportunità Di riconciliazione, di umanità e stimolo per gli uomini e le donne di ogni epoca. È un impegno semplice Come lo è trovare buon olio delle nostre terre per la lampada votiva. Il prossimo 3-4 ottobre sarà la Toscana a recarsi in pellegrinaggio ad Assisi e a offrire l'olio per alimentare la lampada che arde dinanzi alla tomba di San Francesco. È un gesto di devozione e amore che rinnova con questa offerta il desiderio e la volontà di ispirarsi alla sua testimonianza. Quest'anno, la Toscana da San Francesco, ma è per tutti il suo saluto. Buongiorno, brava gente. Il Signore vi dia pace.